Una corte di New York ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, le Guardie Rivoluzionarie e la Banca Centrale Iraniana al pagamento di 6 miliardi di dollari per risarcire i familiari delle vittime dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001. Secondo il JASTA, Justice Against Sponsors of Terrorism Act, una legge approvata nel 2016, anche stati sovrani possono essere giudicati per coinvolgimento in terrorismo internazionale. Lo stesso giudice, George Daniels, aveva rigettato in marzo il ricorso dell'Arabia Saudita, da cui provenivano 15 su 19 dei dirottatori, condannandola di fatto al pagamento di miliardi di dollari di risarcimento. Ma per quanto riguarda l'Iran, la commissione ufficiale sull'11 settembre non ha mai fornito prove, se non vaga e allusioni, al transito di alcuni dirottatori per l'Iran mentre andavano in Afghanistan, tuttavia mai comprovato dai timbri nei passaporti. Ma in tempi di condanne senza prove è il messaggio simbolico che conta. E il messaggio, subito dopo lo show di Benjamin Netanyahu sull'arsenale nucleare dell'Iran, è arrivato con tempismo straordinario. Il regime ucraino ha bloccato l'ingresso nel paese di tre giornalisti stranieri, un italiano, un russo e un cieco. Tutti diretti a Odessa per il quarto anniversario del rogo nella Casa dei Sindacati, avvenuto il 2 maggio del 2014, quando decine di persone furono arse vive dai nazionalisti ucraini per essersi opposte al golpe. Le guardie di frontiera hanno motivato il rimpatrio dei giornalisti, accusandoli di coprire gli eventi in Ucraina in modo poco attendibile. Intanto, mentre i cittadini di Odessa portavano fiori sul luogo della tragedia, le organizzazioni nazionaliste Svaboda, Nazionalnicorpus e Pravi Siekter hanno marciato nelle strade della città, celebrando quella che hanno definito una dimostrazione di forza ucraina contro i terroristi filorussi. Sullo sfondo, l'operazione antiterrorismo del regime ucraino nel Donbass ha lasciato il posto all'operazione delle forze unificate, che gli americani, fa sapere il Dipartimento di Stato, hanno già adottato di missili anticarro Javelin, con buona pace degli accordi di Minsk, della cui in attuazione però viene accusata la Russia. Le truppe USA rimarranno in Corea del Sud, nonostante i colloqui di pace in corso. Lo ha ribadito portavoce del presidente sudcoreano Moon Jae-in ieri, mercoledì 2 maggio. Una risposta nervosa alle esternazioni del consulente del presidente, per cui sarebbe difficile a questo punto giustificare la loro presenza nella penisola. Ma Moon Jae-in chiarisce che è bene non creare ulteriore confusione, ricordando che Kim Jong-un ha ritirato la richiesta di rimozione delle truppe USA come precondizione degli accordi. Pechino, intanto, lancia chiari messaggi per cui non intende essere marginalizzata dai colloqui. L'editoriale di ieri del Global Times titolava «Il ruolo della Cina sarà indispensabile per la denuclearizzazione della penisola». A sottolinearlo, il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo cancelliere si sono recati a Pyongyang ieri per restaurare i rapporti bilaterali fra i due paesi. Nel frattempo, il processo di pace continua, allestita una linea telefonica diretta fra i leaders delle due Coree ed una commissione speciale sudcoreana volta ad implementare i risultati dello storico incontro di venerdì, mentre Trump ha annunciato stamane il rilascio imminente di tre ostaggi americani da parte di Pyongyang. Un segnale volto a preparare la strada all'incontro fra il presidente americano e Kim Jong-un. Le manovre NATO SIL 2018 iniziate ieri, mercoledì 2 maggio, nel sud-est dell'Estonia e nella Lettonia settentrionale, ovvero lungo i confini con la Russia, sono le più grandi esercitazioni militari della storia Estone. Termineranno il 13 maggio e coinvolgeranno oltre 15.000 soldati, compresi riservisti e membri del gruppo paramilitare Estone Kaizeli. Ulteriori 2.000 soldati sono arrivati da 10 paesi della NATO, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Germania, ma anche da stati che non appartengono all'alleanza, Ucraina, Georgia, Svezia, Finlandia e Irlanda. Lo scenario prevede che le truppe coinvolte respingano l'attacco di Murinius, uno stato inventato ostile alla cultura e alla democrazia occidentali, e il cui territorio, guarda caso, corrisponde a quello della Russia, mentre nell'alleato di Murinius, Griseus, si può facilmente riconoscere la Bielorussia. Secondo il senatore russo Alexei Pushkov, oggi nel mondo esistono due possibili punti di scontro tra Russia e Stati Uniti, la Siria e il Baltico. Martedì 1 maggio a Riga, 10.000 manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la riforma dell'istruzione, che prevede, entro il 2021, il passaggio all'insegnamento in lingua lettone in tutte le scuole del paese, comprese quelle russe. Chi è contrario può tranquillamente tornarsene in Russia, ha replicato via Twitter il segretario del Ministero della Giustizia Yanis Yesalnyeks, con tanto di illustrazione della madrepatria che chiama. Dimenticando però che in Lettonia, secondo il censimento del 2011, almeno il 30% degli abitanti è russofono, mentre a Riga e a Daugopils, le due maggiori città del paese, la percentuale supera il 50%. Intanto il leader del movimento in difesa delle scuole russe, Alexander Gaponenko, un professore di 64 anni, è in prigione dal 20 aprile, accusato di una non meglio precisata attività contro l'integrità dello Stato.